Ciao, buongiorno a tutti, sono Andrea Caradonna, un ritrattista, un disegnatore. È il mio primo video su YouTube, sono un po' emozionato. Vi faccio vedere, questa è la mia stanza dove disegno, dove creo le mie opere. Ok, da una parte pratico il buddismo giapponese e dall'altra disegno e questo è il mio ultimo lavoro. Un pesce combattente, su uno sfondo acquarellato, fatto da Serebellum, la mia compagna. Il foglio è favini e uso le... ve lo faccio vedere da vicino. Ok, ecco qualche particolare. Questa è la mia strumentazione. C'è una gomma elettrica, utilissima. Matite, uso le carandacee. Codon fioc. Ogni tanto, ecco, vi faccio vedere un po' di polvere di grafite, mi piace sporcare i miei disegni. Sono molto black and white. E niente, questo è tutto. Ok, ve lo faccio ripetere. Ok, va bene. Grazie a tutti e al prossimo video. Ok, ve lo faccio ripetere. Buongiorno.